Siamo qui con i Black Beat Movement, un gruppo nato nel 2012 della zona che adesso si presenterà. Ciao a tutti, noi siamo i Black Beat Movement, come appunto diceva lei, siamo nati da un annettino e siamo molto felici di essere qui a Festoria quest'anno per questa ventesima edizione, tra l'altro. Vi introduco un po' la band, posso? Vai, vai. Allora, qui abbiamo Luca Bologna, che è il nostro bassista. Aspettate che lo faccia salutare. Ciao, ciao a tutti. Poi Jacopo Boschi, chitarra. Meccanica. Lì in fondo c'è Luca Specchio, sassofoni e tastiere. Ciao. Poi abbiamo il nostro DJ Ugly agli Scratch. Ciao a tutti. Ricky Bruno alla batteria. Ciao a tutti. E poi ci sono io, Naima, alla voce. Vabbè, però qualcuno poteva presentare Naima. Ma Naima? Ma di solito mi presento io da sola. E Naima alla voce. Bravo. Wow, grazie, ciao. Che genere fate? Cioè io in realtà lo so, però voglio farlo dirlo a voi. Un misto tra funk, R&B, soul, drum and bass, reggae, un misto di un po' di tutto. Influenze musicali principali? Siccome facciamo un po' un misto di generi, c'è a chi piace il jazz, a chi piace il funk, a chi piace il soul, quindi sono un po' miste. Cioè, boh, non mi viene da darti uno stereotipo, quindi boh, non lo so. Sì, diciamo che avendo tutti un proprio background, cerchiamo di mettere insieme e mescolare i generi che sono più affini a noi, creando poi il nostro sound del black beat movement, che ha la matrice black fondamentalmente, e poi dopo spazia e viene contaminato da funk, soul, R&B, drum and bass, jazz e tutto. Anche perché voi nascete nel 2012, ma in realtà non c'è nessuno di voi che non abbia già un'esperienza musicale, e alcuni di voi anche in dei gruppi importanti. Chi non ha mai suonato a Festoria? Io. In realtà anch'io. Anch'io non ho mai suonato a Festoria. Cioè, ci ha suonato una band dove adesso faccio la corista, che sono i Routical Foundation, però io non ero ancora arrivata a suonare con loro, quindi non ci ho mai suonato. E le novità che ci presenterete quest'anno? Eh, inizio il disco nuovo tipo a febbraio, quindi, boh, bisognerebbe aspettare per sapere, perché neanche noi sappiamo bene cosa uscirà. E quindi cosa ci presentate stasera? Stasera facciamo i brani dell'EP, alcuni brani nuovi, e speriamo vi piacciono, vediamo cosa succede. Ci sono ospiti, c'è Mastino, che è un nostro carissimo amico di Saronno, che tira avanti la scena hip hop qua da sempre, quindi siamo contenti di averlo qua con noi oggi. Ma, se piove cosa fate? Andiamo a casa, che domanda è? Come che domanda è? Non c'è la copertura del palco, no? Ma non pioverà, non pioverà, non pioverà. Non dirla mai questa cosa, cioè questa è forse la frase più brutta che potevi dire, eh. Cioè, a filo... No, invece io vi voglio preparare l'eventualità. Ma perché deve piovere, perché? Perché dovrebbe... Non piove, non piove. Ok, no, stasera ci sarà il sole, ci sarà il sole di mezzanotte a Saronno. Beh, anche perché ci sono due cantanti donne, per cui il sole è assicurato per forza. Perfetto. Ah, la pezzo è una lancia, a favore. Quindi stasera, per la prima volta, i Black Beat Movement a Festoria, non perdeteveli. Un bel saluto generale ai saronnesi. Ciao! Cicoria! Meccaniche! Sabato 2013 Festoria. Yeah, man!